benvenuti in cucina ricetta latte minute benvenuti tuttora io tuttora e benvenuta anche da mia amica mia amica mia amica allora oggi oggi farei ricetta buonissimo buonissima innanzitutto mettere quanti perché quanti è la cosa più importante come mettere quanti come non mi ricordare va bene non mettere più quanti allora bisogna fare una cosa prima di tutto prima di tutto io ho sette io sento io bacio io prendo il sangue lui prendo il sangue e prendo il sangue e prendo il sangue uomo o animale come voi voler e tante interiore di granoturo interiore acqua polli sali prendere interiore e mettere 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 in tutte mettere in tutte mettere in tutte mettere in tutte buonan buonan interiore non ponen dopo 18 interiore ok in che in che ok allora dopo un ton prendere ecco lo cuore di papino e canta cuore canta uomo questo grande canta cuore perché non capire mia lingua sottotitola per quello che è il mio grande cuore piccolo cuore pampinen 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 più tenere più tenere scolente dunque il cuore questa cacchien pampinen la cacchien pampinen dunque tutto tutto molto sangue molto sangue molto sangue molto cose proprio per cento ok dunque queste qua queste piccole piccole cervelle piccole cervelle di piccoli animali piccoli oh 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 reazioni chimiche reazioni abbassare abbassare un pochino un pochino abbassare tu bestia tu bestia bestia e piccole cervelle non capire me leggere sotto piccole cervelle dunque adesso non creare crema per il nostro interiore ok prendere una bella cuore bella cuore ancora batten ancora batten ancora batten e tagliare ventricole atrien buonan buonan questo piccolo in questo piccolii curerini pół ventricole molto buonan veramente guonan io voglio fatto nella parte esterna preferire togliere in parte esterna o schizzare tutto sangue gas li Lui è il mio paziente, io provo il dottore, io provo il dottore, lui avere solo, come si dice, emicrania e io curare, io curare lui, mettere nuovo. Io provo, io ho studiato nella scuola di capo dell'APA, capo dell'APA un po' capuzza, però tutto bravo, tutto bravo, dottore bravo. Io ho tagliato un pochettino l'esterno, perché insomma bisogna prendere cose pune, le cose pune sono sempre dentro. È vero? È vero amico mio? Mio amico, mio amico, lui è mio amico. Voi, miei amici, voi siamo miei amici, spero proprio di sì. Dunque, prendere queste e tagliare le pezzettine, tanti pezzettine, tanti pezzettine. Ok, ok, pezzettine, pezzettine, le pezzettine, qui, pezzettine. Ok, 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 tutto bene, tutto bene, cosa fare, cosa fare, riscattare. Questo qua abbiamo detto che piccole pampine le fanno bianche, o tagliare le pezzettine, pure queste. Tanti piccoli pezzettine, piccoli pezzettine, più sono piccoline, meglio è. Allora, io asciugare le mani, come tutte le persone pulite, asciugare addosso. Allora, questo apparecchio, io ho lavato con, pu, pu, lavato, disinfettato, tutto disinfettato. Mettere, noce, no, cervello, cervello, un poco di cervello, un poco di questo liquido che si usa quando porta, fa i, 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 mettere questo, questo, questo. E poi mettere, questo, il cuore, il piccolo cuore, il grande cuore, il piccolo cuore, il piccolo cuore, è più tenero. E mannaggiamo, mannaggiamo, e mettere anche un poco di questo. Tutto messo, tutto messo, un poco di sale, un poco di sale, un poco di sale, un poco di sale, un poco di sale. Ok, ok, pulire in maniera giusta, panela, ok, va bene. E attaccare questo, oh, sì, 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 lavora, grospa, 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 sta lavorando, lavora, lavora, lavora. Bello, bello, trattato di cuore, buono, buono, buono. Mettere ancora olio, perché così è anche cucchiaia, acqua e pasta di interiore. Due cucchiaie, e al frattempo girare, perché se non toccare, un pochino e un pochino. Io sono traven, verrò? Oh, sì, sì. Tretta, tretta. Mottapona, mottapona. No, per te. Ah! Tranquillo, tranquillo, ora passa tutto, io medico. Io medico. Allora, pasta, la prima pronta. Mettere da parte. Se volete più succulente, mettere più cuore. Adesso aspettare, pasta, pasta pronta. Pasta pronta, pronta. Mettere qua. Adesso spegnere. E per condire, io ho bisogno di un nuovo padella. Bruciare, mi piacere che bruciare, mi piacere, dolore. Allora, rimettere pasta dentro la pentola. Prendere questo. E contire intero. Mettere tutto, perché è buona. Buona, buona. Sembra quasi senza l'occhietto, invece è cuore. È cuore buona. Forse è cuore dell'occhietto? Forse può anche essere. Quanto brucia, poca tazzozza? La pasta è quasi pronta. Bella l'interiore. La pasta è pronta, amico. Amico. Mettere qua, che già c'è tanto succo di cuore. Mettere qua. Guarda, amico. Amico, ora tu poter mangiare la pasta di cuore. Quest'interiore. 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 Quella qua. Mettere poco piccolo cervello. O poco qua. O poco là. E prendere un pezzetto di piccolo cuore. Tagliare piccolo, piccolo. Piccolo, piccolo. Moppito il cuore, moppito. Piccolo, piccolo. E mettere sopra un po' qua, un po' là. Tutto il sangue del cuore. Un po' di sangue. Schizza, schizza. Oh, schizza, schizza. Sì. Ecco fatto. E' pronto il nostro interiore. Sempre se non capire, leggere. Interiore. Con un clima. Fatto con cuore. Grande cuore. Di grande uomo. O per utilizzare piccolo cuore. Di piccolo bambino. Se tu essere solo a mangiare. Ma se essere solo a essere triste. E allora fare come Frankenstein. Dottor Frankenstein creata compagnia. Dopo di ciò mettere piccolo cervello e cacca. Cacca bianca. Picca bianca di Pampino. E poi piccoli pezzetti di cuore sopra. Io ho finito. Ci ripetiamo. Prossima ricetta un po' particolare. Forse Halloween. E non lo so. Forse son Valentino. Può anche essere. Io ho anche dottora Strana Marre. Se occorre. Saluti. Iscrivetevi al canale. Seguite il social network. E poi www.recettelestminute.com Io seguire. Ok? Io saluto. Tu saluta. Ciao. Tanta pasta. Tanta pasta. Forse troppe. Forse troppe pasta. Io dimenticare scola pasta. Quanto brucia poca cazzo zan. Quanto brucia poca cazzo zan.